... Incontro Giuseppe Maria Armenia, direttore generale a Rete Italia Internazionale e Leonardo Pergolini, solution architect del gruppo Filippetti. Buongiorno. L'ente a cui lei fa riferimento, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, ha sviluppato un progetto di virtualizzazione del parco hardware, sia server sia client. Cosa ha comportato questo investimento tecnologico? Ha comportato un progetto piuttosto complesso. Noi abbiamo dovuto prendere una situazione vecchia in cui tutti i PC erano distribuiti in formato client, ovviamente aggruppare tutti i server, virtualizzare tutto il sistema e successivamente poter offrire il servizio senza la necessità di un PC fisico. Questo ha comportato anche dei elevatissimi costi di investimento sostenuti nell'arco di alcuni anni, ma soprattutto ha portato dei sostanziosi risparmi nella gestione dell'IT dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Il gruppo Filippetti, con partner Oracle, ha realizzato il progetto. In quante fasi e in che cosa è consistito? Essenzialmente il progetto è stato realizzato in tre macrofasi. L'idea di questo progetto era nata per valutare la virtualizzazione delle applicazioni business critical dell'ente che dovrebbero essere distribuiti in tutti gli uffici di cui l'ente dispone all'interno di ogni singolo territorio. Successivamente, effettuato questo pilota, dove è stata valutata la compatibilità applicativa con l'ambiente di virtualizzazione, si è provveduto a mettere in produzione una prima serie di utenti per valutarne l'efficienza derivata dall'utilizzo e successivamente all'espansione, quindi al passaggio dal pilota alla produzione di tutti gli utenti con la nuova infrastruttura interamente virtualizzata di circa 60 server. In termini di benefici, le prime ne ha citate alcuni a livello di costi, quali altri benefici concreti anche nell'organizzazione del lavoro avete rilevato? Considerando che l'istituto ha una struttura variegata e complessa, essendo presente in oltre 80 paesi nel mondo, centralizzare gli applicativi ci ha permesso di distribuirli in maniera uniforme e usufruibile, soprattutto a tutti gli uffici, in maniera immediata. Prima di questo progetto la distribuzione delle applicazioni era abbastanza complessa e richiedeva tempi diversi a seconda della localizzazione degli uffici. Oggi tutte le applicazioni vengono distribuite contemporaneamente a tutti e tutti gli utenti possono, indipendentemente dalla loro localizzazione, accedere ai propri dati, al proprio pc, trovandosi in qualsiasi punto fisico nel mondo, basta avere un qualsiasi pc e un accesso web alla rete internet. Dal punto di vista invece dell'implementazione del progetto, quali ostacoli avete trovato in azienda? Allora, sinceramente non mi sento di parlare di ostacoli, nel senso che è proprio il passaggio attraverso una fase di pilota e il tutto coordinato anche con un'attività molto intensa di project management ha consentito poi di passare all'ambiente di produzione, quindi dal fisico al virtuale, in una maniera abbastanza indolore. Diciamo che forse l'ostacolo più grande che c'è stato è proprio il passaggio della postazione dall'utente dal pc a una postazione fin client, quindi diciamo un modo nuovo di lavorare per gli utenti, però lato server, lato implementazione e consulenza diciamo che siamo stati abbastanza bravi. Quali altri progetti invece avete in cantiere per il prossimo anno? Sicuramente l'ampliamento di quelle che sono gli utenti che usano postazioni pc less, oggi abbiamo circa il 60% delle persone ma prevalentemente nella sede, nel futuro noi prevediamo di estendere questo tipo di servizio in maniera base, mentre oggi sono in forma sperimentale anche in tutti gli uffici che stanno all'estero, non solo le applicazioni ma anche il pc. Questo comporterà sicuramente gli ulteriori investimenti ma un ulteriore miglioramento della qualità del servizio percepito per la parte IT.